Sono state revocate le misure di divieto di dimora nei confronti dell'ex assessore allo sport Angelo Coppolino e del funzionario comunale Carmelo Rucci e quanto ha disposto il giudice Valeria Gioeli. I due potranno quindi fare rientro nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, essendo decorsi i termini della misura, dal momento che è già trascorso un anno senza che si sia tenuta l'udienza preliminare. La stessa, prevista inizialmente lo scorso 8 febbraio, è stata infatti rinviata al prossimo 7 marzo per un vizio di forma. Sarà quindi quella del 7 marzo, la data nella quale due, insieme agli altri indagati, dovranno presentarsi in tribunale. L'inchiesta è quella relativa ai presunti abusi edilizi commessi relativamente a una struttura ricettiva che sarebbe riconducibile ai familiari dello stesso ex assessore allo sport. Intanto la revoca della misura del divieto di dimora potrà consentire sia a Coppolino che a Rucci di presentarsi all'udienza senza le necessarie autorizzazioni. L'architetto Carmelo Rucci potrà anche tornare al lavoro. Grazie. Grazie.